E dopo i recenti episodi che hanno visto alcuni giovani versare della birra imbrattando la fontana del Nettuno a Trento, la Lega chiede che il Comune si adoperi per proteggere il monumento fresco di restauro. In una conferenza stampa i consiglieri comunali del Carroccio hanno chiesto che la fontana venga recitata e che sia impedito a chi transita in Piazza Duomo di camminare sul basamento. Immediata la risposta del sindaco Ianneselli che ha escluso qualsiasi tipo di recinzione ha aggiunto ci affidiamo alla responsabilità dei cittadini.